Che l'anticorruzione, vedete quando poi nomini queste cose subito scattini i servizi, come tocchi dei fili in questo paese straordinario guarda, c'è sempre l'interferenza, non c'è niente da fare, come tocchi i fili c'è l'interferenza. Ma io parlo senza microfono su questo aspetto, scusatemi perché quasi su questa vicenda, guardate è incredibile, non è mai successo. Questi sono i servizi unificati, più anticorruzione, posso riprendere? Alfano giustamente dice che la legge Severino con questa decisione del Tribunale Civile si dimostra non funzionante. Chiederei però ad Alfano, sommessamente e sempre con la mia umiltà, basso basso, piccolo piccolo, e non ne fa più questi ricorsi così pesanti. E perché scusatemi, io poi vado nei processi e vedo che il Ministero dell'Interno, De Magistri sta torto, De Magistri deve perdere, la Severino è perfetta, lui ha sbagliato, lui non... Poi io vinco, va in televisione e dice, De Magistri sta ragionando, scusate, chissene un paese veramente che ci dobbiamo un attimo resettare, perché io devo capire, se io ho ragione, abbandonatela questa strada, basta. Facciamo decidere la Corte Costituzionale, no? Che è il massimo organo del nostro paese che può decidere sulla legittimità costituzionale di determinati altri, perché se io sento Alfano che adesso giustamente si vuole incassare magari un po' di soddisfazione pure lui, invece ma vuole svegliare io con i miei avvocati, scusate, e con le persone che mi vogliono bene, ma non facesse che tra 24 ore dice, no? Severino non va bene, però dice contestualmente all'avvocatura massacrata istituzionalmente De Magistris con un ricorso, se non facciamo ricorso ogni giorno, basta. Se poi le vogliono fare, va bene, io sono sempre sindaco di strada, ormai l'ho detto, fino a maggio sarò sindaco di strada e più me ne fanno, più mi carico.